Amici del calcio femminile, ben ritrovati sul vostro canale qui sulla piattaforma YouTube. È il momento di parlare di calcio internazionale ma soprattutto di calcio giovanile. Abbiamo salutato la sfortunata esperienza della nazionale Under 17 eliminata nella corsa all'europeo dopo una partita contro l'Inghilterra e l'Inghilterra sarà la nostra avversaria anche nelle qualificazioni del campionato europeo Under 19. Una squadra forte, ambiziosa, una squadra allenata dal CT Selena Mazzantini con numerose giocatrici di qualità che arrivano dal massimo campionato e dalle migliori giovanili italiane con Manuela Sciabica, giocatrice del Sassuolo che abbiamo già visto, apprezzato e applaudito in Serie A nel massimo campionato con i suoi primi gol, con Eva Schatzer, talento della Juventus in prestito alla Sampdoria. È una squadra che può fare bene inserita in un girone veramente non facile. L'Italia arriva da un girone di qualificazione impegnativo, arrivava dopo aver affrontato la Francia e in un girone dove troviamo l'Inghilterra a punteggio pieno dopo tre partite con nove punti nella propria prima fase di qualificazione e la Svizzera, la Svizzera che lo ricordiamo promossa dalla League B anche le qualificazioni di questo europeo sono simili a quello delle nazionali maggiori quindi con le nazionali europee divise in tre fasi, Lega A, Lega B e Lega C. La Svizzera neopromossa dalla Lega B con tre partite, altrettante vittorie, ben 35 gol segnati in un girone per la verità non proprio straordinariamente forte con l'Albania e il Kosovo però la Svizzera è una realtà interessante. L'Italia ha affrontato la sua prima partita contro il Portogallo, una partita pareggiata 0-0 una buona partita da parte dell'Italia nella quale le azzurine devono tuttavia recriminare diverse occasioni da gol fallite, una davvero clamorosa nel finale. Ci sono state diverse opportunità con Sciabica, un paio di calci di punizione ma soprattutto nel finale un contropiede che avrebbe meritato sorte davvero migliore con il portiere del Portogallo che ha fatto i miracoli. Il tutto mentre contemporaneamente, si gioca in Portogallo, la nazionale inglese nei pressi di Lisbona andava a vincere 2-0 contro la Svizzera, una prestazione per la verità netta e meritevole da parte della formazione inglese che è una delle super favorite. Adesso l'Italia sarà obbligata a far risultato pieno contro la Svizzera, prossima avversaria e poi soprattutto contro l'Inghilterra in quello che sarà ovviamente lo scontro diretto. La partita contro l'Inghilterra è la chiave per accedere alla fase finale dell'Europeo Under-19 cui sono ammesse soltanto 8 squadre, una per ognuna dei 7 gironi di qualificazione più la formazione padrona di casa che a luglio ospiterà il torneo, vale a dire la Lituania. Non è un percorso facile perché l'Italia a livello giovanile da un po' di anni sta facendo fatica anche con il settore maschile. Abbiamo avuto anni di grandi successi tra gli anni 70 e gli anni 80, poi le cose sono un po' cambiate. In ambito femminile il campionato Under-19 è piuttosto giovane, ha soltanto 25 anni di storia. L'Italia è molto al di sotto rispetto agli standard di squadre capofila come la Spagna, come la Francia che l'hanno vinto spesso. L'Inghilterra dal canto suo l'ha vinto soltanto una volta, però negli ultimi anni è cambiato tutto. Con gli investimenti caduti a cascata sulle grandi squadre del campionato inglese ovviamente hanno beneficiato anche i settori giovanili e il settore giovanile inglese è in assoluto uno di quelli che premia maggiormente i club perché le ragazze arrivano a giocare da titolari già a 17-18 anni ed è più facile trovare delle ragazze di 19 anni in nazionale maggiore che non nella nazionale Under-19. Però nonostante il talento delle inglesi e nonostante la forza delle svizzere che sono cresciute tanto e che esordiranno nella prossima competizione nella Liga si può far bene e c'è la speranza di puntare a questa qualificazione che sarebbe veramente un grande risultato magari da tenere in considerazione di pari passo con il percorso della nazionale maggiore nell'europeo che lo ricordiamo comincia proprio nell'arco di queste prime settimane di aprile con le due partite in programma a Cosenza contro l'Olanda, squadra che ha vinto anche il titolo mondiale e in trasferta a Delsinki contro la Finlandia. Poi si potranno fare i conti. Settimana decisiva, due le partite per la nazionale Under-19, entrambe da vincere, prima con la Svizzera e poi con l'Inghilterra. Grazie a tutti. Grazie a tutti.